È stato approvato il bilancio relativo al 2016 del Comune di Civitella in Val di Chiana. Qual è lo stato di salute dell'amministrazione comunale? Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale abbiamo approvato il resoconto del Comune di Civitella della gestione 2016. Un ottimo resoconto che denota proprio uno stato di salute ottimo di questo comune e un'oculata gestione che in questi anni è stata fatta. Un resoconto che chiude con 2 milioni e 9 circa di avanzi di amministrazione che apparentemente potrebbe sembrare molto alto e denotare una incapacità di gestione. Assolutamente non è così perché questo avanzo alto deriva soprattutto per 1 milione e 7 da residui di gestione precedenti che non sono potuti essere spesi per effetto del vincolo dei patti di stabilità. La gestione corrente porta appena a un avanzo di neanche 600 mila euro che depurata dagli accantonamenti obbligatori è un avanzo effettivo di gestione di 300 mila euro che in un bilancio di 8 milioni penso che sia più che fisiologico. Quali sono gli elementi salienti di questo resoconto? Una riduzione delle entrate alla quale segue anche una corrispondente riduzione delle spese correnti quindi in un'ottica di efficientamento, di razionalizzazione, una riduzione delle spese di personale e un mantenimento sia della qualità che della quantità dei servizi. Un'altra nota che voglio evidenziare è un bassissimo tasso di indebitamento di questo ente, sono anni che non accendiamo mutui e che lavoriamo esclusivamente con le nostre risorse. E' una cassa importante di circa 3 milioni e 9. Quindi ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo 2017. Un bilancio che è stato approvato a larga maggioranza? Sì, un bilancio approvato con 12 voti favorevoli e uno contrario, i voti favorevoli della maggioranza, del gruppo Solidarietà Progresso, del governo Cittadini e il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Per questo voglio ringraziare davvero la lista del governo Cittadini che pur nella loro posizione minoranza, apprezzando il lavoro fatto nel 2016, ne ha poi condiviso i risultati.